Ciao a tutti ragazzi, sono tornata a casa da pochissimo, sono stata tutto il giorno in giro, stamattina sono andata con mio marito a ritirare un pacchettino e meno male che sono andata con la sua macchina perché penso che se fosse andata con la mia mini non sarei riuscito a caricarlo, un pacco di media da Amazon però la consegna era con DHL e quindi il 31 non ero in casa e quindi sono andata a prendermelo adesso al punto insomma per ritirarlo, sono molto contenta che mi è arrivato questo pacco e non vedo l'ora di scartarlo e lo farò insieme a voi perché sono curiosissima anche di sapere i vostri commentini in merito soprattutto alle padroncine e padroncine di animaletti da compagnia quindi cani gatti in questo caso sì solo cani e gatti perché oddio com'è così buio adesso vola 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 comunque bando alle ciance andiamo a scartare il pacchetto allora sto scartando piano perché ho paura di beccarlo dentro quello che c'è è meraviglioso no ma non ho messo pure il cuscino no oddio mio oddio mio quanto pesi qui 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 come c'è sta camicia? bene, sto registrando guarda che bello che è, mi hanno regalato pure uno del cuscino madonna per quanto l'ho pagato, Giuliano è bellissimo adesso la distrugge subito mi hanno regalato pure questo, non c'era? che bello ragazzi, mi hanno regalato anche un mini cuscino zebrato Daniela, guarda Lucifer guarda Lucifer ecco il cuscino fatti vedere dai dai follower fatti vedere fatti vedere ragazzi, è bellissimo, per quanto l'ho pagato io non lo so ecco, no allacciola a mozzicare, è suo guardate che meraviglia, ora lo faccio vedere bene ecco la mozzica tutta è il mio come sta bene? eh? sta bene, si guarda il pantalone sotto si vabbè Lucifer si è già infradunito di tutto quello va in casa va ovviamente eh si fatti vedere, vieni, vieni, vieni ma è tutta fuggita ecco qua, mio marito sta per andare al ristorante, è molto avagliano stasera molto avagliano stasera, ho le tigri addosso, guardate come c'è con le tigri ah ecco, quindi è molto africano, african african style african style comunque ragazzi adesso vi faccio vedere bene insomma da vicino il divano perché è meraviglioso proprio, cioè ci andrei io là sopra qui ragazzi cioè adesso vabbè lo devo un po' sistemare però è in ecopelle con questo effetto così di cuoio io lo trovo meraviglioso, è enorme quindi ci stanno tutti e quattro e questo qui adesso lo mettiamo in salone che poi sono carinissimi perché mi hanno regalato anche questo mini cuscinetto zebrato che ci sta proprio carino se non avessi i cani che rompono la qualunque speriamo che questo qui duri è rifinito veramente benissimo Lucifer togliti mamma non può essere sempre in mezzo fammi vedere sotto è sfoderabile comunque anche se questo qui l'ho preso apposta per non doverlo lavare quindi per passarci sopra la pezzetta e basta Lucifer dai per favore Lucy dai volevo farvi vedere l'etichetta viene dalla Germania questo divano e se riesco vi faccio vedere voglio farvi vedere l'etichettina dai Lucifer molla eccola qua ecco l'etichetta che è che è un better manufacturer quindi il cane roba da cani fatto a mano cosa del genere mi hanno fatto le cose per cani insomma comunque è bellissimo ora andiamo a posizionare in salone e vediamo ecco qui ragazzi vi volevo far vedere la cuccia nuova dei canetti se ci riesco io qui sto con la persiana abbassata perché se no c'è un sole veramente che spacca le pietre è bellissima questa notte questo è il giorno dopo questa notte Michele ci ha dormito tutta la notte le è piaciuta tantissimo però devo dire a tutti quanti è piaciuta molto così ho lasciato quella questa qui che presia la Lidl che comunque anche se in stoffa non rimangono i peli attaccati poi qui ci sta in cuscinone quello gigante 9090 qui abbiamo una greta sul divano e quindi niente ragazze comunque la cuccia è veramente super promossa sì sì ottimo acquisto dunque la cuccia io sono innamoratissima cioè veramente di questa di questo sofà è veramente bellissimo nel mentre sto iniziando come potete vedere dal computer qui davanti ad editare questo video che uscirà a brevissimo perché insomma lo sto tirando adesso quindi a breve esce e così niente vi saluto e vi aspetto lunedì con il prossimo video motivazionale sulle pulizie vi evito di farvi vedere mio marito mutande che mi sta facendo tutti quanti i balletti da cretino in faccia praticamente per farmi ridere ma tanto non ci riuscirà e prima o poi magari ve lo metterò anche così facciamo fare una bella figuraccia gli facciamo fare comunque ragazze vi saluto vi do un bacione e vi aspetto lunedì ciao 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 ciao